Ciao a tutti, benvenuti al sesto numero del Corriere del Guardiano. Iniziamo subito con le news. Guai legali per Bungie. Un giocatore ha denunciato Bungie per instigazione al suicidio. Aveva comprato da poco la colonna sonora del gioco, ma al suo interno era presente una raccolta dei successi di Gigi D'Alessio. Salvo per un errore, infatti nel CD dovevano finire le cover delle canzoni di Justin Bieber reinterpretate in napoletano. Veramente auguri a questo sfortunato guardiano che con questo acquisto ha veramente rischiato grosso. Passiamo allo spettacolo. L'uomo senza mani, la storia del guardiano forse più scarso d'Italia. La vita, i segreti e gli aneddoti del giocatore che sta impressionando tutta Italia. Il ragazzo è stato recentemente inserito tra le specie protette del WWF. Nella terra che non c'è, tre guardiani con un sogno, il faro. Dopo il 9-0 la partenza, ma un malfunzionamento li fa naufragare. Riusciranno a tornare a casa la triste convivenza di tre guardiani in una terra ostile, che nessuno conosce, che nessuno ha mai visto. Il Molise. Passiamo subito alle flash news. Un giocatore viene accusato di usare un pad modificato con Outfire, ma si scopre soltanto successivamente essere affetto da morbo di Parkinson. Un giocatore muore dopo due curve nella SRL trovato senza casco, condoglianza alla famiglia di Ciro, i funerali oggi a Napoli. Abusa di sguardo perso in crogiolo e si trasforma in Andrea Bocelli. Brutto risveglio per il giovane che dopo 71.000 kill con il fucile si ritrova cieco. Non perdete il cruciverba, rigorosamente da completare al cesso. Unvece c'è un leak per un nuovo pezzo esotico che prende il nome di Peril Sociale. Fornisce al predatore della notte la perk, coca e mignotte tutta la notte. Sta a voi decidere se girare per il Cosmodromo con la faccia di Andrea Di Pre. Infine l'ultima news del giorno. Degrato in crogiolo. Un gruppo di guardiani in partenza per Siride viene derubato del talento e non riesce da oltre tre settimane a vincere una partita. Ormai ex giocatori professionisti accusano un gruppo di giovani stranieri incrociati sull'avamposto. Per loro fortuna una testimoni ha visto tutti e li ha riconosciuti. Potete vedere nell'immagine la testimone sentita, ascoltata come testimone chiave nella nostra emittente interna. Con questo concludiamo il sesto numero. Spero vi sia piaciuto. Vi rimando al settimo numero che spero esca presto. Vi auguro buon Natale e ciao a tutti. Grazie a tutti.